Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi dopo tre anni torniamo a giocare a Brawl Stars e potenzialmente è una miniserie non di Brawl Stars ma di video in cui torniamo a giocare a dei giochi che portavamo un sacco di anni fa dopo appunto un sacco di tempo per riprovarli, vedere come sono diventati eccetera eccetera e ho riuscito a rinunciare a Brawl Stars perché è forse in assoluto uno dei giochi che ci chiedete di più di riportare e quindi oggi abbiamo ristallato Brawl Stars, l'abbiamo riscaricato non ho capito nulla perché c'è un 2000 visi, l'abbiamo tipo ehi guarda è cambiato questo e poi questo e questo e questo e ragazzi l'ho appena installato non mi ricordo nulla ovviamente siamo su Brawl Stars, sopravvivenza in due perché è uno dei miei tipi di eventi preferiti in assoluto però aspetta aspetta, no no devo cambiare aspetta io non posso usare il bombarolo ok io invece raga Spiky penso sia in assoluto il mio personaggio preferito del gioco quindi andiamo così senza problemi no è finita, sei pronta? però aspetta avevo tipo anche le skin belle mettiamo quella di Natale perfetto, pronto a quello penso, non la vince le potevo anche far vedere le skin che ho ragazzi non mi ricordo niente nei commenti sia se vi piace l'idea di riportare certi giochi sia che giochi vorreste che riportassimo appunto nel canale quindi mi raccomando sbizzarritevi nei commenti che così vediamo un pochino cosa potremo portare allora mi ricordo che se sei vicino premi col sinistro bla 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 questo cos'è? ma è normale muoversi così lenti? e anche a me sembriamo molto lenti esatto mi sembra che ci sia qualcosa che non va che cosa sta succedendo? che poi mi piace molto come gioco però dopo un po' tendono a essere un po' sciopponi no allora devo dirti che Brawl Stars rispetto a Clash Loyal meno di altri però dopo un po' mi rompo le scatole capito? perché se, allora se non vuoi scioppare è qualcosina io comunque l'ho scioppata però poi sei troppo lento a potenziarti tutto eccetera eccetera allora no l'unico problema di questo match è che non abbiamo preso potenziamenti io te lo dico ci spaccano l'anima al 100% siamo cioè a livello 1 no? si è un schifo perché qua mi pare oh no è stato a livello 7 è a livello 6 che poi livella a livello 7 mi è piaciuto l'ohia l'ottantenne che in me no allora oh yeah la schiena perché non abbiamo fatto un match di prova? non mi ricordo i personaggi non mi ricordo le mie abilità no ma sinceramente il problema è che non c'erano scatole in questa mappa e non le abbiamo trovate noi ci ho provato io apprezzo che sei così gridi però eh ci ho provato ma no dai era tua questa no no era sua perché mi ha gravato allora non so se cambiare personaggio si fa un po' schifo ok l'ho ucciso potenziati mi fa strano non so perché evidentemente mi ricordavo male essere così lento aspetta che torno in vita per lotarla eccomi corri via corri via corri via uno è morto aspetta morti eh accidenti aveva anche i potenziamenti mi pare allora io ho l'alti attiva ma che è sta l'ho sciolto l'ho sciolto vai vai raga con spike appena mi riabituo aspetta che il mio orso ha gli ho fatto l'alti l'ho rallentato cercando di raggiungerti ok trovato mi ha sciolto l'anima devi tenere qua tua posizione oh mi hanno bloccato eh siamo congelati sì eh non la conosco non so che tipo di alti sia ok l'ho colpito allora con calma devi andare lì buono abbiamo un vantaggio enorme perché l'altro è debole dov'è? eh si starà nascondendo ok sicuramente è nato ok ho diato l'alti GG GG vedi tornano a vincere e tornano i campioni tornano a regnare più 9 buono buono facciamo missioni cose non so neanche che cos'è facciamo la moneta KO fai quello che vuoi sembra carina cambio PG ho capito che devo fare un attimino mi sono facendo due cose allora vabbè Nita infatti ce l'avevo potrei usare Jesse Bull a livello 20 guarda come voglio usare Bombardino come la vita quanto mi sei mancato che modalità è? cosa può servire? è il KO 3 contro 3 kill ah se tiro a te mi pare che no non era così era spy cioè pocio colpiti un ucciso mi faceva davvero il 20 sto PG non lo so chiusare ma che fa quello con noi? vabbè non fai nulla se FK non c'è ah è proprio deathmatch cioè si muori bello e vince beh oh fico mi fa un po' triggerare raga che sono morto perché sto Bro doveva sta FK a fare il supereroe cioè nei denti darei il supereroe bravo che almeno c'è vinto il round e fai le motte da bimbo nutellino si in queste mappe comunque sono molto meglio i personaggi come il tuo però aspetta ne ho fatto un sacco di danno questa è un'altra FK raga quindi kill vabbè va bene anche Pam qua hanno bilanato perché resiste tanto ai danni ah momento saliente ah possiamo vedere anche i momenti cloro non voglio giocare con sto Bro non mi è piaciuto quindi andiamo via carina mi piace io poi raga adoro Bombarolo assieme a Jesse assieme a Spike e qualche altro personaggio sono veramente i miei preferiti come? adoro queste bellissime calamite che voi potete trovare in tutte le dico d'Italia ho fatto la combinazione della skin di Marci con il mio personaggio ma con la spada dell'infinito di Kendal per farvi vedere quanto potete combinare oppure abbiamo Mark assieme alla skin di Xiao o ancora che l'abbiamo fatta in un video di Chico se vi ricordate abbiamo Mark e Cimia questo è scemmale oggettivamente però questo fa molto ridere e hai messo Ready? no cosa? usando Penny Penny ma tu non sai usare Penny sì che la so usare però ho la skin da coniglio quindi non mi riconosci non sei non sei abbastanza talentuosa per Penny quello è il mio tipo di personaggio questo cura raga non mi ricordo più sì bravo sto Dynamite mi ha spaccato l'anima occhio aspetta che c'è quello med FK però più ringio di me ok no ho sbagliato come Muri ci sono andata proprio addosso alle alle dinamiti che è proprio errore mio lo sapevo che ti facevi prendere dalla fretta però muori la claccia si è camperato si ecco ma questo è scemo ma vai al diavolo ma hai preso tutto il danno ma hai neanche un claccio raga per quanto sei ma solo contro due è talmente scemo che ero in vantaggio io ottimo GG ciao che doppia che doppia occhio a Cesare Dana Mike sì no good idea ok colpito ne trovate pochi di Bombarolo migliori nel mondo questo non so se magari ci fa giocare con persone scarse proprio perché da tanto che non giocavamo può essere non so dire che quanto sia un grado 20 ormai se c'è tipo grado 45 esatto non so come stiamo messi però dai sta andando bene non so nulla allora direi di provare un altro evento ancora no ti ricordi il calcio lo facciamo il calcio quanto nerdevamo usando chi facevamo era Frankie più o Bull mi pare no però Frankie sì Frankie sì Frank in realtà anche il primo è forte nel calcio chiusi tu penso Frank ok io uso pocho secondo me usavo pocho può essere può essere dove è pocho tra ieri da un uomo un botto che l'hanno direzionato in calcio nel calcio la facevamo a spam anche perché poi noi Brawl Stars abbiamo giocato molto più fuori dalle rec che in rec sì molto di più fuori dalle rec però vai penso che l'ho notato anche dal livello dell'account e tutto per quanto adesso non sia più un gran che immagino rega vi giuro sto scrollando due ore a continuo oh non vedevo pocho lo sai come funziona no? te lo ricordi? no era tutto a caricare l'alti e massacrarli tutti assieme ok l'hanno ucciso eh beh è andata troppo avanti eh sì devo un po' riabituarmi ai nuovi vg rega ma è una variante di spiky quella? o è sì una variante di spiky ma è stupenda hanno segnato? sì eh li avevo costunnati però qua eh ma infatti devi tenertela ad alti perché mo siamo spacciati senza no ma come? eh oh mi sto riabituando a non mi mettere stress e pressione no raga ma cos'è sta cosa che mi attacca? secondo me è una variante di spiky no c'è qualcosa che non mi convince è spiky quello? eh può essere non lo so perché hanno tutte skin quindi non li riconosco no ma vedi che c'è un personaggio che proprio non so che fa forse no è spiky anche se è diversissimo è spiky vabbè o è un fratello non è che è il fratello di spiky no con questo tipo non giochiamo no ma sono io che ho fatto schifo e poi ho fatto schifo quindi non piace usare frankenstein e chi può esaltare dai uso io pocio che è più easy ne ho ucciso uno ti ho curato? buono era buono ok non l'ho ucciso allora io ho usato l'alti per aprire la porta vai segna bro vedi il modo intelligente di usare frank oh non rompere sono arrugginita mi ricordo che accidenti questa stabilità che ho fermatelo mamma mia lo stun tira avanti tira avanti basta la bro non fare il protagonista buongiorno adesso 45 gli ho fatto un passaggio sembravo io nel messi la passo tira mamma mia mamma mia che squadra che campioni è proprio divertente comunque non c'è un'altra facciamone un'altra no sono proprio focussato che male 400 di vita lo stupido oh cisi tutti tieni sai che ti sei messa di fronte e non poteva tirare? non è vero non è vero mi countera segna? no ok e raga questa è bella combattuta ma le mine di sto pagliaccio segniamo? tira porca miseria ero troppo di lato è arrivata a me ma non ero messa bene io ma mi ammazzano ovviamente uff l'abbiamo perso parola portala via brava no ho fatto il possibile ma come? vabbè vabbè ci sta che pastidio mannaggia mannaggia che peccato perché comunque non era la mappa per Frank questa Frank funziona quando c'è la mappa ancora più compatta si beh ci sta probabilità di miglioramento tocca per aprire raro non so che cosa c'è sta roba non lo so cos'è? sta girando all'infinito che a me lo sta a fa? punti energia 21 vabbè wow grazie mille proprio e niente raga ci fermiamo carino divertente come mi ricordavo finita anche la memoria va bene grazie mille ma tanto avevamo finito molto molto fun come sempre non so se lo riportiamo perché non so quanto ha senso portarlo nel 2023 nel canale però un video così per tornare a ricordarci del gioco secondo me ci stava la grande è entrato prima di un video vi sia piaciuto fateci sapere appunto che altri giochi vorreste vedere che vi portiamo dopo un sacco un sacco un sacco di anni e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao